A MidoTV siamo con Francesco Sala. Quanto è importante per la sua azienda la comunicazione? È tutto la comunicazione, perché fare i prodotti, saperli fare, ma anche farlo sapere, credo che sia uno degli elementi fondamentali. Se hai un buon prodotto dillo, perché se non lo dici, noi lo diciamo con un tone of voice abbastanza istituzionale da pochi anni, però tutti sanno che i prodotti Scialcon sono i prodotti made in Italy, gli unici prodotti in Italia, che sono buoni, funzionano. Sappiamo che l'Ottico è il vostro primo partner nella vendita, che cosa gli offrite a livello di servizi? Intanto sulla comunicazione è interessante fare il punto su questa cosa. Io credo che prendendo un motto che dice fare la pubblicità costa molto, non farla costa moltissimo, abbiamo pensato di fare alcune iniziative di marketing in co-marketing con l'Ottico. Quindi partirà una campagna di cartellonistica, pubblicità, insomma di affissione di cartellone, dove c'è una pubblicità legata al nostro prodotto adesso di punta, che è la One Day, la vendita a contatto immersa in una soluzione a base di acido di aeronico, dove l'Ottico avrà la possibilità di mettere un rappezzo, che il rappezzo è quella parte spazio disponibile al cliente, dove c'è una call to action che dice vieni a scoprirle da. E quindi la campagna che adesso è partita pilota a Bari e a Cagliari, ha avuto notevoli adesioni e pensiamo di estenderla su tutto il territorio nazionale. A proposito del territorio nazionale, il mercato come è andato nel 2011 e come sta andando quest'anno? Allora, raccontiamo favole, non siamo nel mondo dei sogni, c'è un calo sostanziale e generale, il mercato ha una flessione, però su due prodotti in particolare, la One Day, la lenta a contatto One Day, Skysoft One Day e sui sostituti lacrimali, la Schalcon registra un incremento del 7,8%. E ora parliamo della fiera di Mido, com'è andata questa edizione? A me fa sempre piacere, un claim della Schalcon era torniamo sempre al Mido, con un visual, con un uccellino, per cui noi siamo sempre contenti di tornare al Mido, il Mido è importante soprattutto per un'azienda italiana, perché, come recita anche il claim attuale, sono le medie imprese che fanno grande il Paese, quindi noi teniamo duro da questo punto di vista. È chiaro che secondo me c'è un problema di comunicazione, anche qua, su fashion, occhiali da sole, cioè il Mido sembra ormai solo occhiale da sole. Dispositivi medici, la contattologia, l'oftalmica, fa fatica a pensare che questo settore può anche comunicare, può essere competitivo anche in termini di comunicazione, non far passare il messaggio che c'è solo l'occhialeria fashion da sole. Quindi forse un impegno anche da parte del Mido a comunicare un po' di più sulle innovazioni tecnologiche che riguardano il comparto tecnologico legato anche alla contattologia che è il nostro mondo. Allora, dalla Mido TV1 in bocca al lupo per un buon 2012. Non si dice crepi il lupo perché non va bene, diciamo in culo la balena. Va bene? Va bene?